Ciao a tutti ragazzi, io sono Valentina e io sono Gabriele e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata speciale perché andremo a fare una cosa di veramente svizioso e sono veramente super emozionata per questa cosa qui. Ora vi dico, vi ricordate che abbiamo fatto il video spacchettamento del cibo USA? Bene, in caso contrario vi lasciamo la bandella qua in alto. Ora, come sapete, sono rimasta veramente, veramente delusa da un drink in particolare per quanto mi riguarda, ovvero la burro birra. Lui si è considerato che ci sono rimasta, tra virgolette, male, nonostante mi sia piaciuto tantissimo. Gabriele nel frattempo sta fabbricando qualcosa, sta prendendo gli rimanenti ingredienti. Io e Gabriele abbiamo deciso di fare la burro birra a casa. Però diciamo che andremo a vedere due versioni di burro birra, una classica e una invece adattata, riadattata ai nostri gusti personali. Anche perché è la burro birra senza birra. Esatto, quindi la andiamo a riadattare secondo i nostri gusti e secondo la mia visione della burro birra. Perciò andiamo subito a farla. Dunque, gli ingredienti principali che andremo ad utilizzare sono il burro che Gabbo ha già tagliato a tocchetti, poi mezzo bicchiere di panna liquida non montata. Poi andremo ad utilizzare, ci servirà il sale, un cucchiaino. Un cucchiaino, bravissimo. Ci servirà l'aceto di mele che avete visto nello svuoto alla spesa di venerdì ed ecco svelato a cosa mi serviva. Ci servirà del brown sugar, dello zucchero di canna. E infine ci serviranno la gazzosa e una birra. Tra l'altro, cosa veramente importante... Voglio aggiungere anche questo. Ah, giusto. Eccolo qua. L'estratto di vaniglia, ce lo stiamo dimenticando. Questo me l'ha regalato un mio amico dai negozi peruviani, cinesi. Ed è in essenza la vaniglia che è buonissima. Io la metto, non dico in tutti i dolci che faccio, ma... Ah sì, e l'altra metà invece della panna l'andremo a montare e poi vediamo il perché. Quindi, questi sono i nostri ingredienti, tanto poi vi lascerò tutti gli ingredienti scritti. Andiamo a realizzare adesso quindi la nostra burro birra in due versioni. Allora ragazzi, il primo passaggio per iniziare a realizzare la nostra burro birra, e mi stavo dando fuoco da sola, è quella di andare a prendere più o meno una tazza di brown sugar, del nostro zucchero di canna, e metterle in una tazza, noi l'abbiamo già riempita per velocizzare un attimino i tempi. E lo andremo a mettere in questa pentolina qui. Quindi, ne aggiungiamo un po' per volta, poi andremo ad accendere il fuoco a fiamma molto bassa, così dovrebbe andare bene, ok? E ci aggiungiamo un gazzettino d'acqua che ne abbiamo messo in questa tazzina, più o meno, meno della metà di una tazzina. Ora, andiamo a mescolare. Allora, dopo che abbia andato la prima mescolata, lo lasciamo tranquillo a caramelizzare. E aspettiamo finché non bollisca, non bollisca, non bolla, insomma. Si sente un profumo di caramello che è buonissimo, davvero buonissimo. Alla fine, la maggior parte del lavoro è tutto qua, far caramelizzare il caramello, cioè lo zucchero. Sostanzialmente, questa è la parte più... Cioè, gira tutto intorno a questo, sostanzialmente. Quindi, se lo zucchero si brucia, dovete rifare tutto da capo. Allora, è quasi pronto il nostro caramello. Secondo me così è molto caramello illuso. Ok, allora, adesso che il caramello è pronto, andremo a... Andremo a mettere il nostro burro. La nostra bacchetta, in questo caso, è un mestolo. E mescoliamo. Ma il burro praticamente si è già fuso, tempo zero. Allora, adesso effettivamente sembra proprio il colore del caramello, è molto chiaro come colore. Ora, ci aggiungiamo... Fallo vedere, fa vedere quanto. Una puntina, insomma, di zucchero. Di sale. Di sale, sì, sale. Minchia, ancora zucchero, no? Di sale. E poi... Andiamo ad aggiungere l'aceto di mele. Rigorosamente di mele, mi raccomando. Proprio un cucchiaino raso, 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 raso. Perché solo un cucchiaino raso, 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 raso? E se no, questo è l'aceto? Interessante. Poi, questo? L'estratto di vaniglia. Qua un cucchiaino da mele. Ok. E poi cosa manca? La panna. Dobbiamo aggiungerci la panna. E opla. Allora, ragazzi, se devo essere sincera, questo è già un colore che mi aspettavo dalla borrobirra. Adesso ve lo faccio vedere. Nel frattempo... Molto velocemente. Molto velocemente, Gabriele si occuperà di montare la panna. Allora, adesso vi faccio vedere... Scusate il casino. Adesso vi faccio vedere il colore che ha assunto il caramello. Guardate. È proprio color caramello. È molto chiaro come colore. Allora, il nostro caramello è pronto. Adesso ci spostiamo di scenare, ci spostiamo sulla tavola. Così andremo a vedere come ottimizzare la nostra borrobirra nelle due versioni. Allora, come avete visto, siamo passati direttamente sul tavolo. Nel frattempo, Gabriele ha montato la panna. Dunque, io direi di partire con la prima versione. Quella classica. Perciò... Quanto più o meno? Questo non lo sappiamo, eh. Metà? No, 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 di me no. Ok, vedi? E l'altro qua. E l'altro, nell'altro boccale. Che è decisamente molto più grande, quindi... La testa di Gabbo in questo momento è una padella. Comunque il caramello non è un po' dolcissimo. Nel senso non è... No, questo è vero, nel senso l'abbiamo assaggiato molto velocemente. E a differenza di... A differenza del... Come si dice? Dello zucchero normale. Questo zucchero, una volta che caramella, non è molto dolce. Mi aspettavo di più. Allora, indubbiamente qua ci andremo a mettere la birra. Mentre invece qua ci andremo a mettere la gazzosa. Quindi... Iniziamo dalla gazzosa. Qui là. Ok. Pronti per la magia? Vediamo. Oh, ragazzi, che figata! No, vabbè, è troppo bello. Ecco, è questa la burro birra che io mi aspettavo. Sennò c'è un po' di... La schiuma è compattissima. No, dai, io non ho mischiato a veloce, perché c'è tutto il caramello sotto. Ok, la schiuma è compattissima. Sì, infatti ve lo mischiare solo sotto. Ok. D'accordo, ne aggiungiamo giusto un altro po'. Perché adesso andiamo a finire il nostro piccolo boccalino. Ancora ancora un po'. Ancora un po'? Ancora? Ancora? Sì. Questa è decisamente la burro birra che mi aspettavo di vedere. Ok, allora, andiamo a mettere la panna. Plouf! Non me l'aspettavo! Adesso invece andiamo a... Ok, solo perché... Però già così la schiumetta la fa da sé, quindi sono già molto soddisfatta. E... Ancora tutta sporca? Vabbè. Adesso noi utilizziamo questa birra, quella che beviamo di solito, che ci piace molto di più. Che ci piace molto di più. Posso? Prego. Adesso, lo verso dall'altro, così. No, vabbè ragazzi. È una figata pazzesca sta roba. No, dai, è più schiuma che altro, eh. Sì, perché il boccano è da un litro, infatti metà... Allora, bisogna aggiungere la panna. Io non lo aggiungerei. Ho paura che fai di nuovo un plouf, insomma, molto, molto... Perché si è smontato, non temi che cosa. Ma forse secondo me i boccali sono un po' trottura. Non lo so, perché in teoria non dovrebbe essere così... Vabbè, a favore. Scende giù. Vabbè, pazienza. Ok, allora, visto che ho considerato che sta tipo strabordando, penso che... È arrivato il momento della salvia. Ok, prima questa. No, no, prima la nascolica. Vai. Eh, sì. Dove sono arrivata alla... Prima di prima. La schiuma è veramente buona. È esattamente questo che mi aspettavo dalla burro birra. Ragazzi, è pazzesca. È buonissima. È questa con la bolla gazzosa, eh. Soprattutto la panna dà un bel contrasto con il liquido. Esperimento 1, perfettamente riuscito. Davvero, davvero buona. Prego, amore. Quella con la birra. La vera burro birra, secondo noi. Buona. Buona. Ci sta? Ho pesato un sacco questo boccale. Forse un po' più di caramello, più o più di qualcosa. Manca qualcosa. Io proverei da aggiungere l'altra panna. Però... A mischiare. Buona. Buona. Sì, è meno burrosa. Con la birra. È anche vero però che abbiamo messo un litro di birra intanto così di... Caramello. Di caramello. Quindi anche quello fa... Mettiamoci tutta la panna. Però, per essere la prima volta che abbiamo fatto questo esperimento, io sono soddisfatta. Premessa. Questa non è... Ok. Questa non è la ricetta originale presente nel libro di ricette di Harry Potter. Perché siamo in quarantena. Quindi gli ingredienti, in teoria, che propone il libro di ricette di Harry Potter della burro birra originale, non li possiamo trovare in questo momento. Per cui abbiamo trovato questa ricetta, diciamo, girando un pochino su internet. E abbiamo messo un po' di ricette e poi insomma ci siamo fatti un'idea nostra. E quindi è la prima volta che l'abbiamo provata. E io, anche solo quella malconica con la gazzosa, ragazzi, sono super soddisfatta. E' così che io mi aspettavo il gusto della burro birra. Perché mi aspettavo, a prescindere dal colore, dalla schiumetta, perché poi vabbè, ovviamente vista nel boccale ha un effetto, ha un certo effetto scenico, chiamiamolo così. Quindi sono molto, molto soddisfatta di questa ricetta e ne sono rimasta sicuramente stupita. Tu cosa ne pensi? A me ne piace anche quella birra. No, dico, visto considerate che a te non era piaciuta quella che abbiamo comprato. Ah sì, in confronto a quella che abbiamo comprato è molto buona. E' veramente ottima, noi ve la consigliamo. La prossima volta, sicuramente, quando finirà tutto questo, vorremmo provare poi a proporvi anche la ricetta originale della burro birra. Magari vediamo se vi può interessare, ce lo fate sapere. Allora ragazzi, che dire, sono contentissima di essere riuscita a fare la burro birra. Sono contentissima di essere riuscita a fare la video ricetta della burro birra. Quindi io direi che il nostro video di oggi può anche finire qua, mentre noi continuiamo a gustarci e ad assaporare questa buonissima burro birra che veramente supera le nostre aspettative. E se lo dice Gabbo che è buona, è perché effettivamente è buona. Allora, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Commentate ragazzi, commentate tanto. Fateci sapere cosa ne pensate di questa ricetta della burro birra. Noi vi consigliamo di provare a farla a casa. Parola di Gabbo. Mi so che è molto scettico su queste cose. E fateci sapere cosa ne pensate di questa ricetta. Lo so, c'è tanto zucchero, c'è tanto burro, però vi posso assicurare che non... Non è nauseante. Non è nauseante. Non si sente, tra l'altro, molto delicato come gusto. Probabilmente, ovviamente, sicuramente, uno perché abbiamo utilizzato lo zucchero di canna e non lo zucchero normale. Due, secondo me, perché ha inciso molto sia la gazzosa che la birra comunque, perché l'hanno molto allungato. Quindi, diciamo che non si sente molto leggero e molto credevole. Allora, vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo domani per un altro simpaticissimo, divertentissimo, spumeggiantissimo video insieme. Un bacione grande, grande. Buona birra. Ciao a tutti. Ciao a tutti.